I consiglieri regionali del PD Antonio Di Marco e Pierpaolo Petrucci hanno parlato delle misure urgenti da mettere in campo per evitare lo spopolamento delle aree interne. A febbraio fu approvata già una risoluzione all'inonimità dal Consiglio regionale per esonerare i cittadini che vivono all'interno dei parchi dal pagamento del bollo auto. Il PD ora ha preparato uno schema con una lettera che sarà indirizzata al Presidente Marsilio perché si può fare di più e sarebbe una vera e propria rivoluzione per sostenere i cittadini dei comuni montani. Come sapete l'8 febbraio di quest'anno abbiamo approvato una risoluzione all'unanimità, ci fu il parere favorevole del Presidente Marsilio che era una risoluzione che garantiva l'esenzione del pagamento del bollo auto per i residenti nei comuni la cui superficie territoriale ricadeva per almeno il 50% all'interno dei parchi nazionali e regionali dell'Abruzzo. Da allora non si è fatto più niente, tempo fa ci siamo messi al lavoro per fare un'attività istruttoria con gli uffici della regione, con l'ACI che voglio ringraziare e siamo giunti alla conclusione che per adottare questa misura da subito adesso che siamo alla vigilia della predisposizione della legge di stabilità e bilancio servono 6 milioni di euro. Accanto a questo abbiamo fatto un ulteriore lavoro per provare ad allargare ad altri comuni che seppur non ricompresi nei parchi comunque soffrono lo spopolamento e quindi abbiamo visto che se noi mettiamo non solo i comuni i cui residenti si trovano all'interno dei parchi ma ci aggiungiamo anche quelli ricompresi nella SNAI o nella legge 32 del 2021 che prevedeva una serie di norme contro lo spopolamento noi arriviamo a una cifra intorno ai 18 milioni di euro. Insomma con 18 milioni di euro noi riusciamo a coprire 150 comuni e la popolazione di 136 mila abitanti e gli consentiremo di avere l'esenzione del bolloato che sono numeri e soldi importanti anche perché parliamo di comuni montani che si trovano isolati, persone, cittadini che spendono tanti soldi per arrivare nei centri maggiori che non riescono ad usufruire degli stessi servizi di cui possono godere i centri abitati più vicini alla città ecco serve un'inversione di tendenza, serve una rivoluzione e oggi la Giunta e questo Consiglio regionale della 12esima legislatura hanno la possibilità davvero di invertire la rotta. Grazie